Teatro Postilico Channel questa sera presenta una one night d'eccezione in console Mr. Tony Effries che abbiamo intervistato soltanto per lui quindi vi consiglio di iniziare a ballare e non perdervi queste immagini This night we are to Teatro Postilico Oh yeah, I mean I've been here once before and it's very good and I'm glad to be back You like it? Of course, absolutely My memory the last time I was here I was able to play anything and everyone was happy so I'm looking for that again Say goodbye to friends of Teatro Postilico in Naples Hey people, you need to come down here, it's gonna be happening tonight Come down! Manager di Tony Effries Maurizio Clemente, buonasera, come sta? Buonasera, bene, grazie, saluti a tutti gli ascoltatori Maurizio, cosa pensi del Teatro Postilico? Penso che sia un teatro molto interessante perché vedo l'impegno di tutti quelli che lavorano qua e la professionalità che ci mettono e vedo anche un bel gruppo, una bella famiglia e quello è importante nei locali Musica 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 Grazie a tutti.